a lei rimanono troppo uspi mi saluti? ciao ciao buona bicicletta, fai attenzione ecco attenzione attenzione e ciao a tutti nuovo video un po' fuori mano finale Ligure ci facciamo una tre giorni di enduro discese arrivati ieri sera temperatura spaziale già un botto di gente e adesso andiamo a prendere il primo shuttle aspettiamo il meccanico che c'è anche lui con la famiglia e poi ci facciamo qualche discesina da un lunedì se no vedi tu si vai Marco grazie ok 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 asenato fatta adesso torniamo su e ci facciamo madre natura per i posteri giusto? e poi se abbrechiamo l'acca veloce l'acca veloce l'acca l'acca veloce 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 sicchia questa? eh boh mi sembra così a l'acca l'acca veloce attenzione che ci siamo trovati anche i ciceroni tal Alberto e tale Paolo ciao ciao e adesso ci portano andiamo a farci una roller coaster cacciatori si freschino ehi guarda te vai a lei rimanano troppo eee 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao. Ciao. No, non è la prima di la rotina, no. Grazie a tutti. Regalata. Dopo la salita facile, easy, molto intuitiva, ci facciamo sta prima discesa. Grazie a tutti. 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 Canada. Grazie a tutti. 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 Ciao un po' ammazzo il tipo. un avion che fa sentire Oddio le moco Eccolo qua Uspi Sei a posto? Non hai visto come l'ho fatto? Si è ammazzato Sono stato alto lì Guarda Sono proprio alzato lì Poi sono venuto via dritto No, dritto così In kite c'è il Brasile Con le bici c'è il finale Canada Canada Dica c'è anche il Brasile